Alleluia, risplendete come altri nel mondo, tenendo saldo la parola di vita. Alleluia, alleluia, alleluia. Gesù non elabora una teoria politica. Con la franchezza che lo distingue, riconosce il debito a Cesare, la cui immagine è impressa sulla moneta, ma dichiara che va dato a Dio quello che è di Dio. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito, dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei Suoi discorsi. Mandarono dunque da Lui i propri discepoli con gli erodiani a dirgli, Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di a noi il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro Questa immagine è l'iscrizione. Di chi sono? Gli risposero di Cesare. Allora disse loro Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Parola del Signore Lode a te, o Cristo. La politica cerca sempre di immischiarsi con la fede. Non perché aspiri a qualcosa di simile alla religione ma perché il soggetto che deve realizzare i fini terreni di giustizia e le ragioni eterne della fedeltà a Dio sono nello stesso soggetto. È la persona. La persona è creatura di Dio e la persona fa parte di un regno sulla terra. Allora bisogna scendere bene i due aspetti quello che di noi appartiene a Dio e deve servire Dio quello che invece appartiene alla società e deve contribuire alla costruzione della società. Credono di compondere Gesù di coglierlo in fallo questi discepoli di scrivi e farisei mostrandogli una moneta e Gesù domanda di chi è l'iscrizione? Di chi è il nome? Beh, è di Cesare perché i romani in quel periodo non potevano coniare le monete come non potevano decretare la morte. Questi due poteri erano riservati agli occupanti ai padroni ai romani e Gesù con chiarezza infinita proprio divina dice date a Cesare quello che di Cesare e San Paolo spiega cosa vuole dire Gesù dice significa questo che noi dobbiamo rispettare l'autorità cioè non possiamo subito metterci a fare le rivoluzioni però dobbiamo pregare Dio che illumini e guidi quei capi messi a guidare la società allora occorre la presenza di Dio e la luce di Dio poi Gesù aggiunge date a Dio quello che è di Dio e ogni credente sa bene quello che deve dare a Dio non può confondere un un animale come può essere il vitello d'oro o il bue api degli egiziani con la realtà di Dio Dio è il creatore Signore che governa il cielo e la terra ciò che egli ha creato rimane sempre nelle sue mani nonostante tutte le deviazioni degli uomini e di coloro che governano gli uomini il demonio ci ha provato in cielo ed è finito nell'inferno gli uomini che provano a sgabbellare a a come dire a sostituire ed eliminare Dio dal cuore degli uomini quelli falliscono e finiscono nella condanna perché esiste il male nel mondo perché ci debbano essere gli uomini cattivi ma se il mondo è così bello la verità alla fine è chiara insomma ci arrivano anche gli analfabeti a capire che tutto quello che esiste il mondo l'universo non può esistere da se stesso e nessuno può averlo creato ma se stiamo tutti i giorni a cercare di scoprire i principi essenziali dell'esistenza della realtà che ci tocca di quello che siamo noi stessi come possiamo noi aver creato tutto questo quindi la logica più elementare ci porta alla conclusione giusta però si frappongono in chi governa interessi interessi di ambizione interessi di idee interessi economici la superbia dell'uomo che si manifesta in tanti modi in alto in mezzo e in basso questo lo vedete tutti i giorni e lo soffrite tutti i giorni ogni volta che riflettete e guardate alla cattiveria all'ingiustizia alla superbia alla violenza degli uomini voi sicuramente queste notizie le conoscete e deprecate il male che viene fatto nel mondo e non ci potete fare niente dal punto di vista fisico ci vorrebbe ogni volta una rivoluzione ci sarebbero morti dappertutto continuamente questo non è possibile d'altra parte Gesù che è venuto a portarci la pace vi do la pace vi lascio la pace vi do la mia pace non propone rivoluzioni rispetto ordine pazienza ma soprattutto preghiera e fede quando San Paolo scrive ai Tessalonicesi sappiamo la fortezza della vostra fede sappiamo la chiarezza della vostra speranza la fatica della vostra carità noi ringraziamo Dio per tutto questo non è merito vostro ma il Signore vi ha scelti ecco la vocazione alla verità e la vocazione alla santità ma ci interessa personalmente questo certo come fate voi a vivere in pace dentro una famiglia dove ci sono tanti motivi per litigare eh qua prendete la forza come fate ancora a sperare nell'aiuto di Dio quando il corpo si ammala quando la famiglia si ammala quando la società si ammala perché avete la luce della fede che vi guida vi guida nella pazienza vi guida nel fare il bene vi guida nell'aiutare Gesù accompie la sua volontà con l'esempio con l'aiuto con la pazienza con l'umiltà queste sono le armi del cristiano e allora facciamo come ha fatto Gesù durante il giorno lavoriamo lui annunziava il Vangelo poi ci riteriamo e invochiamo Dio Gesù trascorriva la notte in preghiera ma cosa realizzava in quella preghiera invocava la misericordia di Dio Padre che l'ha mandato a salvare gli uomini e gli uomini non si possono salvare senza il perdono di Dio e allora Gesù deve attirare deve come dire dare giustizia ai diritti di Dio da Cesare quello che è di Cesare a Dio quello che è di Dio Gesù gliel'ha dato al Padre quello che spetta al Padre adorazione amore obbedienza queste tre cose e anche noi possiamo fare lo stesso rimaniamo saldi nella fede l'adorazione di Dio della sua volontà Signore aiutaci Signore perdona Signore converti Signore liberaci da questo da quello da quell'altro ecco allora e liberaci anche della nostra debolezza donaci ogni giorno più energia spirituale per non soccompere per non essere travolti questa società che fa come l'onda del mare un po' va di qua e un po' va di là e spesso crea disastri questa società in cui viviamo anche noi tutti noi ognuno di noi chi in un modo e chi in un altro fa parte e soffre allora che il Signore venga ci mandi l'amore ci mandi Gesù lui è l'amore ci mandi la Madonna lei è la preghiera vivente è la speranza del perdono di Dio quando diciamo nell'Ave Maria prega per noi i peccatori adesso adesso nelle situazioni che viviamo oggi domani dopo domani e poi nel momento in cui dobbiamo lasciare questo mondo ed essere giudicati da Dio tocca a Lui giudicarci assolverci o condannarci allora preghiamo Dio Padre che per amore di Gesù ci assolva tutta la preghiera che facciamo voi fate bene attenzione alle parole alle espressioni che pronunciamo sull'altare quando dobbiamo chiedere allo Spirito Santo di santificare quello che stiamo presentando al Padre cioè il pane e il vino perché diventino il corpo e il sangue di Cristo di cui abbiamo bisogno per fortificarci non mi dite che voi siete capaci di guidare le macchine senza benzina non camminano senza l'Eucaristia senza la preghiera non camminiamo rimaniamo infossati inguaiati e forse anche distrutti dalla cattiveria del mondo ma anche dalla stessa nostra debolezza preghiamo preghiamo con amore adesso stiamo celebrando il mese di ottobre in onore della Madonna del Rosario e io sempre con la corona del Rosario dammi l'arma disse a Padre Pellegrino questa è l'arma io gli ho detto che volevo parlargli dopo un'ora che stavo a fianco a lui ma non potevo perché lui sempre con la corona in mano me l'ha fatta passare davanti agli occhi e non ha detto nessuna parola ho capito bene che voleva dire non ci fermiamo a parlare a discutere preghiamo perché quella è la fonte dell'energia quanto preghi ce la fai a vincere le tentazioni come no se ti allontani da Gesù e dalla preghiera ma sei già morto San Paolo dice che non saremmo capaci nemmeno di nominare è Dio pensate voi figurate quanta distanza fra la preghiera e la speranza di essere esauditi io credo ma non posso dirlo sarebbe giudicare voi ma quante preghiere facciamo senza speranza troppo no io avevo detto all'angelo custode prima vai e di buona giornata da parte mia a Padre Pio dopo un po' sveglio sono lavato adesso so che dico vai e digli buona giornata dopo vado io alle due e tre quarti e ripeto ancora buona giornata e allora lui alza le braccia ancora quindi io avevo pregato ma non avevo come dire realizzato questo piano di augurio di buona giornata sì è giusto che lo diciamo lo diciamo però non parte dalle radici di un'anima sveglia libera in comunione quindi quando diciamo Padre nostro abbiamo parlato col creatore del mondo col salvatore del mondo perché nell'unità del Padre del Figlio dello Spirito Santo si realizza il nostro esaudimento quando noi parliamo a Dio parliamo a tutte e tre le persone della Santissima Trinità e ognuna di queste persone viene che vuoi figlio mio che succede che ti occorre Dio già lo sa ma vuole che glielo diciamo noi quando il bambino piange la mamma il papà generalmente sanno qual è il motivo però glielo domandano che hai fatto che vuoi che ti serve che ti fa male portiamola a questo livello il nostro rapporto con Dio nella preghiera ma soprattutto nella vita per essere buoni un pochino buoni di fronte a Lui che è la bontà assoluta credo in un solo Dio Padre Onnipotente Creatore del cielo e della terra le oasi di Maria dove sono dovunque è stata dovunque è passata dovunque è apparsa dovunque è venerata nel silenzio adorante della casa di Nazareth coccolata dal padre incinta dallo spirito baciata dal figlio custodita e venerata dall'innamorato Giuseppe casto figlio del re Davide e a Adein Karem col capitolo di premure per la cugina Elisabetta e Giovanni e Zaccaria a Betlemme di Efrata tra il sorriso degli angeli l'affetto dei pastori lo stupore dei magi tra le dune del deserto della terra del faraone tra l'umile gente dell'opulento Egitto in ogni chiesa d'oriente dove si canta al suo nome nell'oasi di mite inverno e di pacata estate che è a nome Efeso lì chiunque mette piede ci lascia un po' del cuore è accaduto anche a me col desiderio lì ritorno per rivestire la mia anima di pace e di gioia d'amore e di silenzio lì indisturbato rimango ad ascoltarla vicino ai nostri giorni è scesa all'urde dei Pirenei e a Fatima Lusitana per aggiornar la tenda d'attesa e d'accoglienza per ricordare la preghiera e chiamare a penitenza per lavare dai peccati e guarire dal dolore la terza moderna tenda in terra Jugoslava per raccontar di sé dono di Dio all'umanità e ricordando al mondo che in mano a lei è la pace speranza sempre tesa da Dio agli uomini e dagli uomini a Dio all'oriente smarrito a lì indicata la via per ritrovare Pietro e ritornare all'unica casa quella che anch'essi chiamano chiesa l'Italia è costellata di santuari dedicati a lei basta ricordare Loreto e Pompei evocazione della famiglia e del rosario dovunque s'è fermata l'eresia non è approdata di là dall'oceano Guadalupe ed altre ancora oasi di Maria e il cuore di ogni santo dai loro occhi di carne piove la luce di Cristo e il sorriso della sua mamma ho respirato il loro profumo somiglia certamente a quello di Gesù e di Maria è il profumo del paradiso e